Lo dicevamo oggi, giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, tema purtroppo di assoluta attualità, una vera e propria emergenza se si considera il numero quotidiano di incidenti sul posto di lavoro, un numero esorbitante in tutta Italia e la nostra regione non fa eccezione. Ne parliamo con Massimo Balzarini, segretario della CGL Lombardia. Buongiorno, grazie a voi. Dunque, possiamo forse usare il tema, la parola strage, un termine molto forte ma che rende l'idea. Come mai tutti questi infortuni, quali sono le cause? Sì, purtroppo bisogna usare il termine strage di eventi che non sono accettabili, non sono mai fatalità. Sono cose che sono sempre prevedibili perché sono cause ricorrenti, cadute dall'alto, urto con parti meccaniche, ribaltamento di mezzi o agricoli o carrelli elevatori. Quindi cause che si possono rimuovere. A Monte ci vuole una formazione adeguata ma soprattutto un'organizzazione al lavoro che non acceleri i ritmi troppo eccessivi o straordinari o anche la precarietà del lavoro, tutte condizioni che se vengono in qualche modo predeterminate possono evitare e prevenire queste cause. Ora vediamo i numeri di questa emergenza nel servizio di Claudia Mondelli, poi torniamo in studio e li commentiamo. In tutta Italia sono state 122.000 le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail nei primi 60 giorni dell'anno. Due al giorno, festivi compresi. Un incremento del 47% rispetto allo stesso periodo del 2021. Ma di lavoro si continua a morire. 114 coloro che nei primi due mesi del 2022 hanno perso la vita. Un dato cresciuto del 9,6%. I dati in Lombardia non sono poi molto diversi, anzi. 18.500 le denunce di infortunio nel 2020 prima dello scoccare del lockdown. 15.500 quelle nel primo bimestre del 2021, che quindi risentono del ricorso allo smart working. Sfiorano le 25.000 quelle partite tra gennaio e febbraio di quest'anno, con un aumento del 59,3%. E in questo caso, con una certa equità di genere, a farsi male, metà sono state le donne, metà gli uomini. Ma 24 sono state le morti nei primi 60 giorni del 2022 in Lombardia. 14 quelle avvenute nello stesso bimestre del 2021. Erano state 12 nel primo bimestre 2020. A perdere la vita chi lavora nel settore delle costruzioni, ma anche nell'agricoltura, nei trasporti, nella metalmeccanica. Si va dall'urto con parti meccaniche, allo schiacciamento da mezzi di trasporto, alla caduta dall'alto. E così il dato arriva a toccare il 71% in più di decessi tra un anno e l'altro. Il milanese, la provincia più colpita, con sei decessi, segue quella di Brescia con cinque. Ma è tutto il mondo del lavoro a essere precario, anche nella sicurezza. Una situazione davvero allarmante. Massimo Balzarini, cosa si può e cosa si deve fare? Si deve fare perché è una violazione del diritto costituzionale alle persone a non farsi male, a tornare a casa al lavoro sane e sicure. Non può passare il messaggio che la ripresa dell'attività economica è accompagnata agli infortuni che devono essere evitati e assolutamente prevenuti. Abbiamo una perdita del PIL dal 3 al 6% solo per questi infortuni. Abbiamo delle richieste ben precise al governo e al governo regionale. Anzitutto una formazione certa, a partire dai datori di lavoro che devono fare la formazione. Poi bisogna intervenire anche con patenti appunti, con strumenti legislativi già previsti. Poi in qualche modo la formazione curricolare. Abbiamo avuto gli studenti in formazione, alternanza scuola-lavoro. Esatto, alcuni recenti casi. Precaria o non adeguata, quindi in tutti i livelli di formazione scolastica, né curricula, la sicurezza sul lavoro deve essere un elemento strutturale, è una cultura della sicurezza. Pensare che si va al lavoro sicuri e c'è un lavoro sano, certo accompagnato da un lavoro stabile, non precario e ritmi di lavoro, ha quindi anche un'assunzione di responsabilità dei datori di lavoro che spesso sono loro stessi vittime degli infortuni. Se non avviene tutto questo continueremo a rincorrere qualcosa che per questo paese non è accettabile. Una situazione che non è più sostenibile. Peraltro ora con il piano nazionale di ripresa e resilienza si stanno moltiplicando i cantieri. Quindi aumenta il rischio di infortuni? Sì, e su questo abbiamo già lanciato l'allarme. Cioè da un lato c'è il 110% dell'edilizia e i progetti, il PNRR, che sono in fase di avvio e quindi vedranno un'enorme quantità di lavoro. Allora se non si interviene appunto con una prevenzione, un'accurata organizzazione del lavoro, si rischia che anche quelli siano un'occasione non solo di sviluppo, come ci auguriamo, di modifica, trasformazione di questo paese economica di cui abbiamo bisogno, ma non possiamo appunto accettare che si accompagni con le morti sul lavoro. Un tema importante saranno le ispezioni e i controlli e su questo tema chiediamo il rafforzamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ma anche e soprattutto degli organi del Servizio Sanitario Nazionale che sono già attivi e competenti su questa materia. Grazie a Massimo Balzarini, segretario della CGL Lombardia, per essere stato con noi. Grazie a voi. Buon lavoro e buona giornata.